siamo con un personaggio molto speciale il suo nome è tina cipollari ciao tina ciao buonasera a tutti sono pronta puoi partire fammi tutte le domande che vuoi anche le più piccanti allora tina i tuoi fans sono tantissimi hanno ma non solo in italia anche all'estero io sono seguita anche in europa un po in tutto il mondo veramente sì no ma questo lo so perché ricorda se non possiamo dire dove perché ancora però pichino express atto ti hanno riconosciuta più volte sì sì più volte ma non mi sono meravigliata perché io sapevo di questa cosa insomma ci seguono un po dappertutto in tutto il mondo tanta gente non ha contatti con te non può arrivare a te per cui approfitto e interagisco per loro e ti chiedo sei innamorata sì di tre persone non di una tutti penseranno che io sto scherzando in realtà non è uno scherzo è la verità sono innamorata di tre persone che c'è di mano no bene ma ti ricorrispondono loro guarda due sì uno un po così così ancora non abbiamo definito bene che tipo di rapporto è il nostro tre personaggi con cui tu andresti a cena e tre personaggi nel modo della politica della canzone in artisti in generale e tre persone che assolutamente tu non vorresti vedere neanche dipinta possono essere politici cantanti allora guarda un cantante due cantanti con cui andrei a cena allora uno è ricchi iglesias porterei a cena anche il papà ora non so quanti anni ha però anche con lui andrei a cena volentieri e un altro è francesco renga che il mio idolo io adoro le sue canzoni infatti approfitto cristina per salutarlo ciao francesco io ti amo ti mando un bacio e poi un politico beh obama si andrei si andrei a cena con lui molto volentieri e l'altro dunque un attore che porterei volentieri a cena antonio banderas invece tre persone che proprio non ti piacerebbe vedere neanche per lavoro neanche indirettamente di striscio e beh questo magari è una domanda di riserva meglio di no dai non mi fa dire cose gravi che poi no senti ma tra renzi e grillo con chi non andresti a cena ma io con nessuno dei due perché non mi piacciono e quindi no parliamo invece del dei tuoi desideri più importanti c'è un qualcosa che ancora nella tua vita non è realizzato no diciamo che ho realizzato molti sogni e in questo momento sto bene sono molto appagata della mia vita e non desidero altro sinceramente c'è un messaggio importante che tu senti di dare ai ragazzi anche ai giovani ma anche ai vecchi chiunque qual è stata l'avventura diciamo che riguarda tante non sono non fisica sessuale ma proprio in generale un'avventura folle che ti ha visto protagonista un'esperienza avventura che ho avuto tanti anni fa e andai a fare questo viaggio insieme a mia sorella più grande e siamo andati negli stati uniti e lì ho persi la testa per un ragazzo e che cosa fece abbandonai mia sorella per correre dietro a questo ragazzo italo americano che si chiamava david ora parliamo di quando io ero proprio una ragazzina insomma avevo poco più di vent'anni per lui ho fatto veramente delle delle follie ti considera cristina che ho viaggiato tutta una notte attraversando più stati per raggiungerlo perché lui abitava a new york e io a un certo punto ho continuato il tour mi trovavo a New Orleans quindi tu puoi immaginare la pazzia che ho fatto per quest'uomo quella è una cosa che per quanto riguarda diciamo un ricordo sentimentale poi ce ne sono state tante altre che ora non ricordo bene però quella proprio che è indelebile nella mia mente è questa tina tu sei mai stata arrestata no 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 se accadesse credi riusciresti a sopravvivere a questa esperienza credo proprio di no è una cosa veramente che ci penso spesso pensa quando leggi non so queste senti questi fatti di cronaca e ho sempre così immaginato se accadesse a me come mi sarei sentita come come insomma reagirei e ti dico che sarebbe veramente un'esperienza drammatica qual è il tuo cibo preferito beh ne ho tanti io adoro molto diciamo i primi piatti quindi tutto ciò che riguarda la pasta le minestre amo poco la carne però diciamo che faccio un uso facevo un uso molto frequente di insaccati quindi salame mortadella e prosciutto prosciutto cotto insomma vari insaccati però adesso ho cambiato alimentazione un'alimentazione sicuramente più sana il mio piatto preferito sono la pasta i primi piatti tina cosa ne pensi della droga beh io intanto non mi sono mai drogata e non ho mai avuto diciamo questa necessità ti dico la verità è vero che insomma in passato quando ero una ragazzina un'adolescente mi è capitato di di frequentare delle persone insomma dei ragazzi delle ragazze che si avvicinavano alla droga però ti dico la verità io ho avuto sempre molto timore paura e questa paura mi ha portato a non a non provarla mai vi illudono che la droga può dare delle sensazioni strepitose fantastiche ma tutto ciò che poi fa male è meglio evitarlo quindi divertitevi con altro tu hai uomini e donne conosci molte persone da anni gente che ti si ruffiana ragazzi e ragazze perché la tua parola è importante avere te dalla parte loro è sicuramente meglio che te contro avere tina dalla loro parte è un grosso vantaggio questo accade molto raramente anzi lancio un appello approfitto cristina se tu me lo permetti non non vi sprecate troppo non 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 lo fate perché tanto poi io sono molto seguo molto il mio istinto quindi se di primo impatto mi piacete è già una grossa fortuna ma se non mi piacete veramente mettetevi l'animo in pace chi non ti piace come persona ma diciamo che a me non piacciono le persone che si presentano sotto una veste che non gli appartiene quindi tutti quelli che vogliono apparire qualcosa che realmente non sono le persone bugiarde e le persone che sfruttano la gente tina ti ringraziamo tantissimo per essere venuta qui voi te personalmente sa cristina che ti voglio bene ti stimo tantissimo e mi ha fatto molto piacere essere intervistata da te grazie mille salutiamo gli amici di tele bugatti se avete qualche curiosità potete scrivere a tre bugatti chiocciola gmail.com e chissà magari faremo recapitare indirettamente con il picciole viaggiatore e il messaggio a tina vi abbraccio tutti mi ha fatto veramente piacere essere qui oggi con te cristina e un saluto e a presto